Bentornati a Independent Space, lo web format che promuove la musica indipendente. In questa puntata ci occuperemo dei Love in Elevator. Questa alternative band veneta, attiva fin dal tardo 2001, si contraddistingue subito sulla scena grazie a un EP e due album full-length usciti con l'etichetta indipendente Just Try Records di Bergamo, Su Me del 2005 e Ripulsion del 2008. 2008 anno in cui cambia la formazione del gruppo con l'ingresso di Christian Biscaro e Roberto Olivotto ad affiancare Anna Carazzai. E ora gustiamoci un estratto live dei Love in Elevator. Grazie a tutti. 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 Prayers for my favorite war I love you 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 I love you